Dietro di noi c'è questa Madonna, la statua della Madonna della Rocca. Qui, insomma, di fronte a questa statua, Padre Giochino Lallumia pregava. E' un modo per ricordare anche, Padre Giochino, domenica ci sarà questa manifestazione, la festa della Madonna della Rocca. Sì, faremo festa. Faremo festa attorno alla nostra Madre del Cielo, qui invocata con il titolo di Madonna della Rocca. Per questo, tra l'altro, dopo gli ultimi ritocchi, restauro della Chiesa, abbiamo messo questa bella roccia sulla quale poggia questa splendida immagine della Madre di Dio. E dinanzi alla quale, hai detto bene, pregava Padre Giochino, piangeva, piangeva, piangeva per i peccati degli uomini, piangeva perché raccomandava tanti fratelli e tante sorelle, tante famiglie, tanti bambini a Dio. Perché si commuoveva dinanzi alla bellezza non solo di questa immagine, ma soprattutto dinanzi alla bellezza del cuore della Vergine Maria, che, come dicono i padri della Chiesa, concepì prima nel suo cuore e poi nel grembo il figlio di Dio. Ecco, domenica ci sarà la messa, naturalmente, poi la benedizione anche dei bambini, perché questa Madonna ha un bambino, ha Gesù Bambino in braccio. Ci sarà la benedizione dei bambini e delle mamme in attesa, perché festeggiare la Vergine Maria è necessariamente far festa e sottolineare l'importanza del dono della maternità e del dono della vita. E poi padre Gioacchino era particolarmente attento alle mamme in attesa, quando le incontrava le benediceva e chiedeva loro familiarmente di mettere il nome di sua mamma Eleonora o di suo padre Nicolò oppure di Santa Filomena. Ecco, padre Gioacchino espresse tutta la sua umanità, tutta la sua tenerezza nei confronti del valore della vita. Incoraggiava, incoraggiava tante mamme che non potevano avere figli a sperare nel Signore che prima o poi i figli sarebbero arrivati. In realtà continua padre Gioacchino a fare queste grazie, a far sì che possa arrivare il dono di un figlio. Ecco perché allora domenica vi aspettiamo alla Messa delle 19 per benedire appunto le mamme in attesa e i bambini. I bambini che sono il dono più bello che il Signore ci fa perché dobbiamo imitare la loro semplicità. Nel Vangelo Gesù ci raccomanda di essere come i piccoli. Ecco, un'ultima cosa. Guardando un po' l'espressione, il viso della Madonna, è un viso un po' pensieroso. Forse è molto attuale questa espressione, visto che viviamo in una società in cui c'è molta preoccupazione. Sì. La nostra società certo vive diversi problemi, ma soprattutto la nostra società è lontana da Dio. Sono lontani da Dio coloro che si dichiarano tali, ma tante volte siamo lontani da Dio anche noi che pensiamo di essere vicini a Dio. E allora la Vergine Maria che conosce il cuore degli uomini certamente, certamente, così è preoccupata, è in apprensione per tutti noi, per le sorti dell'umanità. Però ci incoraggia. Come nel Vangelo, nel brano delle nozze di Cana, Maria ci dice sempre che nonostante tutto, nonostante i guai, nonostante le difficoltà, lei dice sempre fate quello che vi dirà il mio figlio. Nelle sue parole c'è la salvezza.